Guarda che casa, guarda che meraviglia di casa, l'unica cosa, è un ristorante? L'unica cosa che farei è dare un po' di mordente alla porta d'ingresso per fare il colore uguale all'altra casa, l'olandese. Ma sei matto? Guarda come sono messi i legni, non si muovono più nemmeno morti. Guarda che roba, sta pietrificata qua, si ma non avrai neanche freddo dentro? Certo, ma una volta quando le hanno fatte no, è uguale la tua in Spagna? Guarda come sono messi i legni, non si muovono più nemmeno.